Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo nella giornata di venerdì. Tempo sull'Italia sarà nel complesso ancora soleggiato. Condizioni di maltempo al sud nella giornata di giovedì ma con l'instabilità che poi tenderà ad allontanarsi verso Levante e quindi avremo un miglioramento anche sulle regioni meridionali. Vediamo la grafica della nuvolosità che ci mostra come l'ammasso nuvoloso responsabile del maltempo di giovedì al sud si muove verso Levante, avremo giusto qualche innocuo annuvolamento di passaggio mentre un po' di addensamenti non mancheranno sull'arco alpino, specie quello confinale. Osservando la grafica delle precipitazioni, anche qui lo zoom delle piogge, notiamo come l'instabilità tenderà gradualmente ad allontanarsi verso Albania e Grecia e quindi avremo solo qualche residuo piovasco sulle regioni del sud. Infatti osservando l'Italia nel corso di venerdì avremo una giornata nel complesso soleggiata seppur con un frequente passaggio sempre di velature che potranno anche offuscare il cielo, un po' di addensamenti ancora al sud con residua instabilità nella prima parte del giorno, specie sui versanti tirrenici e qualche piovasco sui confini alpini. Clima che resta comunque sempre molto gradevole per il periodo. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.